Cosa è la cancrena gassosa? La cancrena è un termine che descrive una condizione in cui il tessuto inizia a marcire mentre è ancora attaccato al corpo. In molti casi, ciò può accadere perché i batteri invadono il sito di una ferita. Nel caso di cancrena gassosa, meglio nota come gangrena gassosa, i batteri rilasciano un gas mentre attaccano la zona della ferita, causando un effetto di gonfiamento. La particolare specie di batterio associata alla gangrena gassosa è chiamata clostridium. Questo disturbo è considerato estremamente pericoloso e quasi certamente mortale senza un trattamento di emergenza immediato. A volte le colonie di batteri possono rilasciare gas come parte del loro processo alimentare, e questo è il caso delle specie clostridium. Il gas stesso ha diversi effetti sul tessuto. A volte può provocare uno schiocco sotto la pelle quando viene toccata l'area circostante l'infezione. In altri casi, l'area infetta potrebbe gonfiarsi notevolmente. Ci sono anche molti altri sintomi di cancrena gassosa che sono generalmente comuni a tutti gli altri tipi di cancrena. Per esempio, ci sarà generalmente molto dolore nell'area della ferita e la pelle inizierà a perdere gradualmente colore. Con l'avanzare della cancrena, alla fine il tessuto diventerà quasi nero. C'è anche un drenaggio marrone attorno alla ferita con un cattivo odore. La maggior parte dei pazienti svilupperà una febbre relativamente alta. La cancrena gassosa di solito si sviluppa solo con una ferita abbastanza grave come un'incisione chirurgica o qualcosa di simile. In alcuni casi, può essere possibile che si sviluppi con una ferita meno grave o qualche altro tipo di lesione. Una volta che si sviluppa, l'unica cosa che salverà un paziente è il trattamento immediato. Il trattamento della gangrena gassosa inizia generalmente con la rimozione del tessuto infetto e l'uso immediato di antibiotici per via endovenosa. Per liberarsi del tessuto che causa l'infezione, i medici sono spesso costretti a usare l'amputazione. In molti casi, la decisione di amputare deve essere presa relativamente rapidamente perché l'infezione batterica può diffondersi molto rapidamente, e il sangue avvelenato da tessuto in decomposizione rappresenta una costante minaccia per gli organi di tutto il corpo. C'è stato un tempo in cui ha gangrena gassosa e altre forme di cancrena dove generalmente è molto più comune. Lo sviluppo di migliori antisettici, antibiotici e tecniche mediche generali ha diminuito l'insorgenza di questo tipo di infezioni. L'uso dell'amputazione come metodo di trattamento per la cancrena è relativamente vecchio ed era ben noto ai medici prima del 1900.